Talè è stato molto sfrontato nell'affermare che ora abbiamo l'Eliambulanza con volo notturno H24, ma nel frattempo ha detto qualche cosa di più grave. Ha detto che abbiamo, testualmente, smembrato gli ospedali soprattutto dell'entroterra. Sarà stato un lapsus freudiano che dice nient'altro che la verità di quello che ha fatto Talè, insieme ai consiglieri regionali del PD e di tutto il centro-sinistra nella nostra regione. Cioè ha chiuso i nostri pronto soccorso, ha chiuso le nostre strutture ospedaliere e le ha sostituite con delle Eliambulanze. Ora con queste Eliambulanze si stanno facendo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Ma dobbiamo sapere che le Eliambulanze possono essere soltanto integrative e non sostitutive rispetto alla rete ospedaliera e rispetto ai pronti soccorso. E questo è quello che prevede la legge. E veramente sia lui che il Presidente della Regione hanno fatto delle battute di cattivo gusto. Ossia ci hanno privato del diritto alla salute, ci hanno privato del diritto a avere un pronto soccorso sui nostri territori, ci hanno privato di avere degli ospedali nei nostri territori, da Fano fino ad arrivare a Pergola, a Sassocorvaro e nel resto della Regione Marche. E le hanno sostituite con delle Eliambulanze che, come sappiamo, potranno volare di notte solo quando non tirerà vento, quando non ci sarà nebbia, quando non ci sarà la neve. E sono abilitate solo a dei trasporti secondari. Significa che non potranno prelevare direttamente l'ammalato, ma l'ammalato dovrà essere prelevato da altri mezzi di soccorso e dovrà essere trasportato in un ospedale di riferimento dove c'è una piazzola o in un'altra struttura dove l'elicottero potrà atterrare per poi essere trasportato a Dancona. E allora c'è Riscioli che ci dice che sarà per i cittadini dell'entroterra e per gli altri cittadini marchigiani, compresi i fanesi, come avere gli ospedali riuniti da Ancona di fronte a casa. Io dico a Ceriscioli perché si sta costruendo un'azienda ospedaliera sotto la sua villa a Villa Fastigi e l'ospedale sarà a poca distanza a Moraglia e non si costruisce invece dell'azienda ospedaliera una bella piazzola e l'ospedale unico lo facciamo a Fano, a Pergola, a Fossombrone o a Cagli e lui si accontenta di una bella piazzola?